Aretini, popolo di partite IVA e di pensionati, almeno a giudicare i dati di due distinte ricerche, una del Sole 24 Ore e l'altra della CGL di Arezzo. Partendo da quest'ultima, è stato realizzato uno studio sul numero di partite IVA ad Arezzo per iniziare anche a fondare la Carta dei Diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori Autonomi. 3007 solo nel 2015 le partite IVA che sono state aperte nella provincia di Arezzo. Rispetto all'anno precedente, il calo di iscrizione è stato del 5-8%, il 70% delle aperture da parte di persone fisiche, il 61,4% sono uomini, il 49% under 35 e un avviamento su 5 operato da un soggetto nato all'estero. La fascia generazionale che aumenta di più è quella compresa tra i 36 e i 50 anni con un incremento costante del 12% rispetto al 2014. La maggior parte delle partite IVA si concentrano nel settore del commercio e dei servizi, 24,4% e attività professionali 13,2%. Ma gli aretini sono anche un popolo di pensionati. Secondo i dati del Sole 24 Ore, ad Arezzo un terzo degli aretini percepisce almeno una pensione, 33,8% contro il 29,7% della media italiana. Arezzo si colloca al terzo posto a livello toscano con una media di 810 euro di assegno pensionistico.